salve desidero leggervi l'incipit di un libro storico il giovane odden di salinger è un'edizione degli struzzi in audi del 1971 se davvero avete voglia di sentire questa storia magari vorrete sapere prima di tutto dove sono nato e come è stata la mia infanzia schifa e che cosa facevano i miei genitori e compagnia bella prima che arrivassi io e tutte quelle bagianate alla david copfield ma a me non mi va proprio di parlarne primo quella roba mi secca e secondo ai miei genitori gli verrebbero un paio di infarti per uno se dicessi qualcosa di troppo personale sul loro conto sono tremendamente suscettibili su queste cose e soprattutto mio padre carini e tutto quanto e chi lo nega ma anche maledettamente suscettibili d'altronde non ho nessuna voglia di mettermi a raccontare tutta la mia dannata autobiografia e compagnia bella vi racconterò soltanto le cose da matti che mi sono capitate verso natale prima di ridurmi così a terra da dovermene venirne qui a grattarmi la pancia niente di più di quello che ho raccontato a db con tutto che lui è mio fratello e quello che segue sta a hollywood lui non è poi così lontano da questo lurido buco e viene qui a trovarmi praticamente ogni fine settimana mi accompagnerà a casa in macchina quando ci andrò il mese prossimo chissà ha appena preso una giaguara uno di quei gingilli inglesi che arrivano sui 300 all'ora gli è costato uno scherzetto come 4000 sacchi o giù di lì è pieno di soldi adesso mica come prima era soltanto uno scrittore in pieno regola quando stava a casa ha scritto quel formidabile libro di racconti il pesciolino nascosto se per caso non l'avete mai sentito nominare il più bello di quei racconti era il pesciolino nascosto parlava di quel ragazzino che non voleva far vedere a nessuno il suo pesciolino rosso perché l'aveva comprato coi soldi suoi una cosa da lasciarti secco ora sta hollywood db a sputtanarsi se c'è una cosa che odio sono i film non mi rinominate nemmeno voglio cominciare il mio racconto dal giorno che lasciai l'istituto pensai l'istituto pensai quella scuola che sta a haggirstone in pennsylvania probabile che ne abbiate sentito parlare probabile che abbiate visto gli annunci pubblicitari se non altro si fanno la pubblicità su migliaio di riviste e c'è sempre un tipo gagliardo a cavallo che salta una siepe come se a pensai non si facesse altro che giocare a polo tutto il tempo io di cavalli non ne ho visto neanche uno né lì né dintorni e sotto quel tipo a cavallo c'è sempre scritto dal 1888 noi forgiamo una splendida gioventù dalle idee chiare vi ho letto l'incipi del giovane olden tratto da saling un libro delle inaudi e spero vi sia piaciuto